Si è appena concluso il secondo dei due incontri che abbiamo fatto sulla questione dello palestinese, ieri abbiamo incontrato l'ambasciatrice dello Stato di Palestina e oggi l'ambasciatore dello Stato di Israele. Questi due incontri sono stati fatti con l'obiettivo non di parlare della storia del conflitto, ma di parlare bensì delle proposte del Movimento 5 Stelle per una soluzione, soprattutto per la soluzione dell'immediato, per cessare il fuoco, come abbiamo sempre detto. Abbiamo avuto questa necessità per un ovvio motivo, perché il governo Renzi non si esprime, il governo Renzi non porta delle proposte, allora noi come opposizione ci siamo dovuti sostituire al governo e portare avanti delle nostre soluzioni. Gli incontri sono stati assolutamente positivi, credo che ci sia stata assolutamente la possibilità di parlare di tutte le nostre sette proposte, le abbiamo presentate anche nel nostro sito percessareilfuoco.org e queste proposte chiaramente non hanno trovato il benestare di tutti, perché chiaramente la differenza anche ideologica è importante in questo caso. Crediamo però che ci sia l'astruta necessità di sersi tutti a un tornantavolo, perché il conflitto estero-palestinese oggi non è più soltanto una questione di politica e di ideologia, ma è una questione molto pratica, molto territoriale. Allora oggi c'è la necessità di portare avanti queste proposte e di condividerle con tutti gli attori, uno è lo Stato di Palestina, l'altro è lo Stato di Israele, ma c'è anche Hamas. Abbiamo chiesto al governo di Israele di fare un atto probabilmente rivoluzionario, che è quello di elevare il nemico interlocutore, perché l'ambasciatore ci ha detto più volte che con Hamas non si può parlare e che non vogliono parlare con Hamas, ma se non parli oggi con Hamas non risolvi il conflitto, allora noi crediamo che bisogna fare un passaggio oltre, andare davvero a un altro livello di discussione e coinvolgerli. L'ambasciatore ha detto più volte che lo Stato di Israele spinge per una soluzione dei due Stati, ma allora ci chiediamo per quale motivo in tutte le ultime occasioni in cui lo Stato di Israele ha avuto la vera possibilità di andare sulla soluzione dei due Stati, come proposto alle Nazioni Unite, abbia sempre fatto opposizione a questa soluzione. Israele oggi, essendo la forza predominante nella questione israelo-palestinese, ha la vera possibilità di risolverla. Faccia un passo in quella direzione, faccia capire che davvero oltre alle parole ci sono dei fatti e i fatti vanno nella concessione del diritto di esistenza dello Stato di Palestina e della soluzione dei due Stati, se questa è la soluzione che entrambi vogliono. I cittadini italiani non vogliono sporcarsi le mani di sangue di civili innocenti, non vogliamo essere complici di un massacro, è ora che il Paese si mobiliti e vada verso la direzione della soluzione del conflitto. Noi ci siamo, facciamolo insieme per cessare il fuoco.